appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale è andata in onda la prima semifinale del cantante mascherato e la puntata si è aperta con lo spareggio tra drago e lumaca le due maschere si sono esibite e ad avere la peggio è stato drago che ha dovuto quindi rivelare la propria identità che dire poche sorprese quest'anno i giudici ed il pubblico avevano capito già da tempo che ci fosse proprio simone di pasquale sotto la maschera di drago le idee sull'identità di lumaca invece erano ben più le idee sull'identità di lumaca invece erano ben più confuse e quindi lumaca è rimasta in gara e voi avevate capito che si nascondeva sotto la maschera di drago avete idea di chi ci sia sotto le altre maschere rimaste in gara fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao